Professor Luciano Canfora, quando un turista, un viaggiatore arriva davanti al Partenone, quante cose dovrebbe mettere a fuoco per cogliere veramente lo specifico di questa maestosa struttura? Visitatori del Partenone ce ne sono stati molti nella storia, attratti dal mito, attratti dalla difficoltà stessa di arrivarci, il dominio turco è stato lunghissimo e dissuasivo. Non di meno quello che andrebbe capito dinanzi a questa struttura è il senso politico di questo strano oggetto che non era un luogo di culto ma era il simbolo del potere di Atene e della ricchezza di Atene, il tesoro della Lega stava lì dentro. E quanto c'entra quindi in tutto questo invece la forza artistica della struttura del Partenone? Cioè quanto diventa anche ostentazione artistica? Noi parliamo giustamente di arte, di bellezza e facciamo bene, non solo per rispetto di tutto ciò, ma anche perché ci rendiamo conto che la grande tecnica produce bellezza. Non ci dobbiamo però dimenticare che questi erano degli artigiani e quindi c'è un cortocircuito secondo me tra la nostra pulsione estetizzante, per cui diamo per assodato che è bello ciò che è antico, possibilmente molto antico, e il fatto che per loro era un'operazione invece di grande tecnica e di grande prestigio. C'è un tema invece specificamente legato al lavoro di Fidia, lei accenerà nella lezione, suppongo, addirittura con uno scandalo di natura economica, di malversazione. Il mestiere di ministro è un mestiere molto difficile, non solo perché la tentazione di abusare del proprio potere è dietro l'angolo ed è anche umana, ma anche per un'altra ragione, che cioè si diventa bersaglio. Credo che sia abbastanza verisimile affermare che è morto avvelenato in carcere alla vigilia della grande guerra con Sparta. Pericle non l'ha potuto salvare, la prima volta c'è riuscito, la seconda no, ma era anche un momento di declino politico per lui.